ragazzi che è una partita insipida tante occasioni non sfruttate ma comunque c'è sai quelle cose c'è arrivi lì per lì che deve tirare una mazzata come si dice una scagliosa e poi invece esce il diretto il passaggino in braccio al portiere di gregorio oggi stava lì che si preteva il sole se c'era il sole ma non c'era neanche il sole quindi comunque veramente una partita insipida ma mai chiuso proprio col fiocco l'abbiamo chiuso e ci poteva andare anche peggio conoscendo ormai questo napoli a cose ridotte una poltiglia di quello che è stato l'anno scorso cioè l'anno scorso quest'anno è stato quello di quello di quello dello scudetto andiamoci a sentire palladino e vediamo 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 vai vai Palladino ai Ciao mister Gianluca Monti Gazzetta dello Sport buonasera credo che tu possa essere più che soddisfatto se te l'avessero detto prima della partita è la classica vicenda nella quale magari uno dice ok il punto me lo prendo al Maradona contro la squadra campione d'Italia ora per come si era messa per il secondo tempo di grande personalità per il palleggio della prima frazione per il coraggio di andare a prendere talvolta i terzini del Napoli con i tuoi braccetti difensivi c'è anche un pizzico di rammarico? Allora hai detto un po' tutto tu hai fatto un'ottima analisi sono d'accordo sicuramente c'è un po' di rammarico per come si è messa la partita però voglio dire voglio essere onesto come sempre questa è una partita che potevamo sia vincerla che perderla perché ovviamente il Napoli ha avuto anche le occasioni io prima della partita non mi accontento mai del pareggio sinceramente la squadra ha sempre la mentalità di giocarsela deve sempre andare in campo con quella mentalità e oggi l'abbiamo fatto oggi abbiamo fatto una partita molto solida contro una squadra comunque con grande individualità contro una squadra che aveva bisogno di punti non siamo stati bravi in delle ripartenze potevamo far meglio a tratti abbiamo fatto anche l'ottimo calcio abbiamo messo il Napoli anche nell'altra metà campo comunque in fase difensiva e poi ovviamente il rigore è un episodio quindi si può far gol si può anche sbagliare mi è piaciuta la reazione della squadra quindi sono soddisfatto perché oggi è stata davvero una prestazione di gruppo quindi contento del pareggio no allora su colpani ovviamente oggi è stata una scelta ho preferito valentin carboni un ragazzo di 18 anni che comunque lavora con con grande motivazione e grande intensità per me è fondamentale la competizione tra di loro perché loro si giocano il posto sempre per me troppo importante questo aspetto lo sanno i ragazzi e oggi ho preferito lui però colpani ovviamente entrato con un grande atteggiamento mi è piaciuto molto come è entrato io ho chiesto una risposta insomma una mano quando se fosse insomma se fosse subentrato quindi è stato bravo a subentrare poteva anche far gol però non non ci siamo riusciti però mi è piaciuto l'atteggiamento pubblico spettacolare ovviamente qui a Napoli per me è la prima volta da da allenatore venire qui al Maradona è stato molto emozionante perché avevo tanti amici tanti tanti parenti che sono venuti a vedermi è molto bello qui l'ambiente quindi insomma è stato molto emozionante oggi però appena fischiato l'arbitro ovviamente ero concentrato sulla sulla mia squadra e direi che sono soddisfatto di uscire comunque da questo stadio così importante con un pareggio Buonasera mister Daniele Rodia pianeta Napoli la sua squadra esce benissimo dal basso utilizzando anche il portiere e poi riesce velocemente a ribattare l'azione qualità che invece il Napoli non ha quante esercitazioni di lavoro ci sono per arrivare a questo a questo obiettivo a questo diciamo a questa qualità del suo Monza tante tante lavoriamo tutti i giorni per quello io credo molto a questa cosa credo che insomma l'evoluzione del calcio è un po' cambiata ora si costruisce anche dal basso se hai un portiere ovviamente che ha queste qualità e noi l'abbiamo abbiamo questi principi di gioco vogliamo essere comunque propositivi vogliamo sempre cercare insomma di andare nell'altra metà campo con dei concetti con dei concetti e dei principi di gioco è ovvio che non deve essere un possesso palla sterile ma il possesso palla, la partenza da dietro è sempre finalizzata poi a far gol perché questo sport richiede ovviamente di far gol però oggi siamo stati bravi abbiamo messo anche difficoltà in Napoli e direi che dobbiamo essere molto soddisfatti della prova di tutti quelli che sono partiti dall'inizio e quelli che sono subentrati Buonasera mister Riccardo Nicotra Calcio Napoli 24 questa è una domanda da Napoletano le chiedo cosa si prova a vedere il Napoli in questo momento di difficoltà d'avversario però da Napoletano ovviamente dopo la passata stagione ovviamente tutti i napoletani sono dispiaciuti di questa annata un po' anche sfortunata perché comunque oggi Napoli aveva tante assenze bisogna ricordarlo questo quindi dispiace un po' però io sono sicuro che la società sta cercando insomma la società, il mister sta cercando in modo di venirne fuori e sono sicuro che ha grandi qualità il Napoli ha grandi giocatori e ne verranno fuori quindi insomma me lo auguro per la città di Napoli e per i tifosi Mister buonasera Antonello Giannetti Info Napoli 24 in tutto complimenti per la prestazione le chiedo a questo Monza che pratica un gioco bellissimo anche molto diciamo propositivo manca un grande bomber cioè per poter magari mettere un po' più a profitto tutto quello che producete grazie ma io i miei calciatori li amo tutti quindi sì io li amo tutti io stravedo per Colombo e per Maric ovviamente anche oggi Dani Mota ha fatto molto bene anche da prima punta io stravedo per loro cerco ogni giorno di lasciare qualcosa e insegnargli qualcosa questo è il mio obiettivo perché il ruolo dell'allenatore non è solo vincere le partite ma è lasciare qualcosa ai ragazzi ragazzi anche giovani oggi abbiamo chiuso siamo partiti con Valentin Carbonica in 2005 Warren 2003 Colombo in 2001 cittadini comunque tanti giovani che mi piace insomma lavorare con loro è ovvio che ci manca qualcosina davanti ci manca qualche gol per la tanta mole di gioco che facciamo per le tante azioni per le volte che arriviamo lì però quello è compito mio è compito mio lavorare ancora di più Salve mister Gennaro De Lena Teleclub Italia se dovesse individuare qualcosa di questo Napoli rispetto a quello della scorsa stagione un punto di debolezza se lei l'ha percepito ecco dal campo qualcosa che le è parso profondamente diverso rispetto alla scorsa stagione dove punterebbe il dito ecco cosa individuerebbe? Beh io credo che ovviamente mancano un po' di fiducia credo soprattutto dopo la strepitosa stagione dello scorso anno la storica stagione dello scorso anno quest'anno insomma credo che il problema principale sia un po' quello magari affrontare il Napoli lo si affronta anche in maniera diversa perché ovviamente lo si teme di più è la squadra da battere perché è la squadra campione d'Italia quindi credo che sia un po' quello però io sono sicuro fa parte del percorso anche il Milan se ricordate quando ha vinto lo Scudetto l'anno successivo ha avuto delle difficoltà e poi ci sono tanti infortuni tanti giocatori fuori quindi credo che sia una problematica tanti piccoli problemi poi non posso dirlo io perché ovviamente sono dall'altra parte i problemi bisognerebbe capire all'interno però credo che ci sia un bravissimo allenatore è un'ottima società che cercheranno di risolvere i problemi che ci sono mister buonasera Ciro Troise Corriere della Sera vedevo i numeri vostri c'è un dato impressionante potreste chiudere domani con la quarta difesa del campionato subite meno di Milan di Napoli squadre molto più quotate realisticamente allenatore ma anche da giocatore offensivo ex giocatore offensivo si può migliorare con le risorse che ha anche il numero dei gol fatti per far sognare il Monza assolutamente sì come dicevo prima il mio compito cercare di mettere in condizione ovviamente gli attaccanti di poter fare più gol perché arriviamo tante volte lì è compito mio quindi i ragazzi sono strepitosi si impegnano ogni giorno danno sempre tutto per cercare ovviamente di migliorare questo aspetto lo sappiamo che ci manca l'ultimo passaggio ci manca la scelta finale ci manca anche un pizzico di fortuna in più perché in tante occasioni siamo arrivati lì e non siamo riusciti a far gol però mi piace l'aspetto che hai sottolineato la solidità della squadra una squadra che sa difendere sa attaccare abbiamo un'ottima fase difensiva e oggi nonostante le tante assenze in difesa oggi comunque abbiamo giocato con Gagliardini difensore centrale direi che la squadra davvero ha risposto molto bene sono felice di chi ovviamente è stato chiamato in causa perché oggi non era semplice mister buonasera Giovanni Minieri sta piaciandone volevo chiederle questa sera il Napoli si è schierato in maniera un po' diversa soprattutto in fase di possesso è stato un 3-4-1-2 con Di Lorenzo che stringeva e Zervine e Mario Rui Larghi e Quara e Raspadori che giocavano vicini con Anghissà e Zelischi a turno dietro di loro ecco si aspettava questa mossa e quanto è importante l'identità che è riuscito a dare alla sua squadra per assorbire questa mossa senza contro a colpi no vabbè comunque il Napoli anche ci ha messo in difficoltà noi ci aspettavamo anche questo sapevamo che potevano fare tante rotazioni in mezzo al campo con Anghissà con Zelischi con Lobotka e Quara Schelia che comunque partiva da largo veniva anche dentro sapevamo avevamo studiato molto in Napoli in questa settimana sapevamo che avevano insomma tante assenze e comunque sulla destra non c'era Politano e potevano avere insomma un giocatore anche con caratteristiche diverse che poteva essere Zerbin poteva essere Zanoli poteva essere anche Lindstrom quindi comunque ci aspettavamo quello abbiamo cercato ovviamente di difendere nella maniera giusta l'abbiamo fatto molto bene come diceva anche il collega tante volte siamo usciti anche con i nostri terzi sui loro terzini con coraggio con lo spirito giusto e con la mentalità giusta direi che è stata fatta una partita giusta oggi grazie a tutti buon lavoro grazie auguri buon anno a tutti eh vabbè comunque dobbiamo dire allora due o tre cose le dico prima di tutto se oggi abbiamo portato a casa il punto il famoso punto se non la puoi vincere almeno pareggiala eh vi ricordate Garzia sto rimbiangendo Garzia quasi quasi era meglio Garzia comunque cancellare questo voglio dire dobbiamo ringraziare la Meret oggi vabbè anche anche il calciatore la pescine che ha tirato quel rigore così proprio ecco poi a volte era stato di Maradona era stato di Maradona lì che ha fatto ha fatto grazie comunque Meret si è fatto trovare lì però eh Meret poi Meret qualche risentimento qualcosa ha lasciato il posto a Nikita Contini mamma io stavo sugli sparti così eh non c'era neanche i collini comunque va bene altra cosa che voglio dire è che il Monza sta providato cioè il Monza veramente ma figuratevi che Gagliardini difensore centrale Gagliardini che l'Inter l'ha cacciato a penate centrocampista l'ha cacciato praticamente e ce l'ho e il Monza l'ha dovuto mettere in difesa non c'ha nessuno e noi abbiamo fatto Cilecca sapete cos'è Cilecca vabbè quante occasioni vabbè no è stato vabbè speriamo che quest'annata l'abbiamo chiusa qua così con questo misero pareggio misero punticino intanto ci stanno superando tutti qua la Fiorentina il Bologna oppure la Palazzo la qualificazione di Champions League la Conferenza League Speriamo l'anno nuovo calcio nuovo non lo so comunque qua ci vanno 3,4,5,6,7,8,9,10 calciatori pure Simeone se lo vuole andare è basso ci fa striato mettete un like iscrivete a questo canale condividete condividete sapete come si fa condividete c'è il pulsantino lì c'è quella cosa con la freccetta condividete condividete dove volete voi su Facebook su Instagram su X eh su TikTok 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 andiamoci a sentire Mazzarrone voglio vedere che ha di dire tra l'altro tutti i due allenatori sono stati espulsi un bel cartellino rosso vabbè andiamo comunque al di là di tutto sempre e solo Forza Napoli vai e ci vediamo dopo ciao ciao ciao